È una grande emozione per me, ma per tutte le guide di alta montagna, valdostane, e soprattutto grazie a tre segreti che questo fattore ha fatto sì che sia oggi qui oggi. Uno è la professionalità, due sono la capacità di noi guida alpini di andare in montagna e poi la condivisione con le altre guide di fare delle grandi imprese. Le Alpi e il nostro Monte Bianco, il nostro Cervino, il nostro Monte Rosa sono i punti di partenza per le grandi imprese sia imalaiane che in giro per il mondo, per cui è un grande orgoglio partire da qua per le grandi imprese. Come è sempre stato, dai nostri avi, pensiamo alle guide alpine all'inizio della loro epoca, in giro per il mondo con i propri clienti, per cui è un grande orgoglio ancora oggi.